bella a tutti ragazzi bentornati oggi vi porto questo super glitch per avere soldi infiniti si può fare in sessione pubblica o in sessione a soli inviti i requisiti sono avere una base operativa con l'alloggio all'interno e il cannone orbitale e avere due completi minimo salvati quindi per cominciare il glitch cambiatevi abbigliamento e vedrete che in basso a destra ci verrà la rotellina di caricamento del salvataggio a questo punto avvicinatevi al cannone orbitale in alto a sinistra vi verrà questa scritta per usarlo ora quello che dovrete fare è tenere premuto il menu interazione andare su stile cambiare un abbigliamento qualunque e rimettere velocemente quello che avevate già addosso e fare freccia destra per entrare subito nel cannone orbitale una volta nel cannone orbitale acquistiamone uno e appena ci scala i soldi tasto ps e abbiamo spotify e confermiamo di voler sospendere l'applicazione una volta sospesa l'applicazione tasto ps torniamo in gta e aspettiamo questo messaggio di errore che ci uscirà nuovamente tasto ps e ora andiamo impostazioni rete e facciamo verifica connessione internet una volta che avrà caricato tutta la verifica della connessione internet torniamo col tasto ps in gta e vedrete che vi ributterà in gta la storia come potete premete tasto option a questo punto tornate come ho detto nell'online quindi andate su online gioco a gta online io vado in sessione solo inviti per caricare più velocemente una volta che rispaunerete nella base operativa vedrete che avrete 500 mila dollari in più a questo punto cambiatevi nuovamente stile e aspettate la pallina in basso a destra di caricamento del salvataggio una volta salvato potrete continuare a fare questo glitch e non abbiamo nient'altro da dire lasciate come al solito un bel like ed iscrivetevi al canale passate per i canali del team glitch sotto in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video bella per tutti ciao 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 ciao